L'obiettivo è quello di vincere l'euroscetticismo e soprattutto l'astenzionismo che sarà figlio anche della crisi che sta attraversando la politica, non solo in Italia, basta guardare i risultati delle recenti amministrative in Francia e far capire anche con un'azione molto diretta nei confronti dei cittadini, delle imprese, in questo caso della società toscana quali sono le opportunità che noi possiamo rappresentare l'Europa ma quali sono al tempo stesso anche i grandi temi penso alle grandi crisi industriali che passano da Lucchini, Anzaldobreda e altre che si sommano giorno per giorno nella nostra regione che possono essere portate all'attenzione dell'Europa visto che sempre più soluzioni a grandi temi passano da quel livello cioè da livello europeo più che solo e soltanto dai rapporti tra i governi regionali e i singoli governi nazionali.